Fra tre giorni quasi tutta Italia sarà in zona bianca. Il consueto monitoraggio del venerdì ha portato alla firma della nuova ordinanza che prevede il passaggio nella fascia con meno restrizioni anche per le marche. Resta l'obbligo del distanziamento così come quello di indossare la mascherina ma se all'aperto potrebbe essere eliminato già dalla metà di luglio. In zona bianca viene abolito il coprifuoco anche se dal 21 giugno verrà tolto pure in fascia gialla. Inoltre non ci sono limitazioni agli spostamenti e riaprono tutte le attività la cui apertura non era ancora prevista. Tra queste le discoteche che potranno ripartire soltanto per i servizi di bar e ristorazione. Infatti non si può ancora ballare in pista ma ci sono delle valutazioni in corso da parte del governo. Nei ristoranti invece nessun limite per le persone che si potranno sedere al tavolo all'aperto mentre al chiuso il numero massimo è di sei commensali. Invece alle feste private e alle cerimonie come i matrimoni si potrà accedere con la certificazione verde, il cosiddetto Green Pass utile dal primo luglio anche per andare nell'Unione Europea e nei paesi aderenti. Funzionerà con un codice QR sul telefonino e potrà essere stampato su carta. Il documento attesta la vaccinazione, un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti o la guarigione da coronavirus. Quando sarà disponibile si riceverà un sms oppure una mail. A quel punto sarà possibile scaricarlo attraverso il sito dedicato il fascicolo sanitario elettronico mediante l'app Immuni e presto sull'app Io. Chi al contrario non è pratico con la tecnologia potrà rivolgersi al medico di base, al pediatra o al farmacista. Il sistema sarà pienamente operativo dal prossimo 28 giugno.